buongiorno ragazze ciao a tutte ciao a tutti allora scusate ma non vedevo se stava registrando o meno allora nuovo video haul stamattina non so che sia non velo per dettagli e niente allora questo video haul saponi profumi perché sono appena stata saponi profumi e mi sono dedicata a vari acquisti non sono tanti e quindi vabbè faccio vedere quello che ho comprato giusto tanto per per tanto per tanto per vedere che sono viva che sono qua sul canale su youtube che il mio canale attivo e nulla dunque se vedete la prestazione così diversa perché non ho spostato nulla ma ho la luce riflessa perché sulla finestra aperta quindi di tutta risposta aspettate che mi sposto un po ok dunque si qua vedete la mia bustina a questa parte qui perché ho fatto acquistita sapone il comitato un minuto a 10 mi parlo vabbè niente allora faccio vedere cosa ho acquistato dovrà messo lo scontro io qui allora ho preso bio repair che l'ho sentito dire su youtube che pare che sia buono o allora non vi dico i prezzi però ve li scrivo tutti nell'info box e poi scusate se c'è la punta c'è sentite voci ma sotto ci sono i muratori che stanno non so cosa che stanno cercando di sistemare la strada o i tombini non so cosa quindi sentirete le voci di ogni dunque ogni persona che passa sotto la mia finestra pazienza ragazzi abito al piano terzo di casa mia in mezzo quindi si sente di tutto di più in mezzo alla strada vabbè dettagli comunque niente allora elvive olio stra straordinario per quello che è elvive olio per capelli si intende ovviamente e poi robert acqua di dalle rose sarebbero e a parte quello una crema non ho preso altro lo per rendere il burro ma ce l'ho già quindi che me ne faccio in doppia burro a tau non lo uso sempre il burro a tau ma male allora prima cosa ti offre il mio repair sempre questo qui questo non l'ho ancora provato non vi so dire una una mia opinione sincera una mia recensione però ho sentito dire che è valido è buona per le proprie gengive ed è riparata al dolore di in 30 secondi vabbè questo non c'entra niente sotto qua comunque aiuta contro le le carie comunque questo è questo la placca non lo so ma le carie penso di sì questo è aspettate un attimo che ve lo dico subito da 75 mila di prodotto dovrebbe essere buono io tanto lo proverò poi farò sapere poi olio per capelli eccolo qua questo è vetro quindi se lo comprate state attenti perché se vi cade sono cavoli sono dolori questo lo terrò in camera mia perché ho una paura buio di farlo cadere perché questo sentite a smr sentite già questo è il vetro puro quindi se devo stare attenta non farlo cadere allora vi dicevo che sono 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 capelli colorati no per capelli colorati l'ho presa vabbè io non li ho colorati ma non importa non ho visto vabbè tra l'anno ho visto 100 ml di prodotto per 18 mesi di scadenza appunto di paolo l'ho presa per capelli colorati ma se vuole non ho visto che ci posso fare o le straordinarie sublime colore o le preziosi filtro uv colore esaltato protezione lucentezza va bene da male che vada lo proverò sembra se mi funziona come lo continuerò a comprare e buonanotte comunque mi dovrebbe fare bene i capelli mi dovrebbe dare un po più di lucentezza che ovviamente non ho a questi capelli e fare più fare più come dire più non viene meno i capelli meno opachi e più lucidi e più morbidi ecco tutto dove lo metto qua adesso non devi dare che mincare poi ho preso questo la detergente per pelli sensibili con l'estratto di rosa antica deterge idrata la pelle e formula ipoallergenica anti arrossamenti questo qua questo è un latte detergente che lo uso per struccarmi ma c'è già un altro c'è la garnier e questo l'uso come doppia detenzione faccio direttamente questo al viso questo per il viso al mattino e alla sera più anche la crema che ho comprato che ce l'ho qui da questa parte questo è un 200 meno di prodotto e dovrebbe essere dovrebbe essere buono perché ho sentito dire altri youtuber non so se sono americane o italiane perché siamo più spagnoli che americani comunque non importa io l'ho sentito qua su youtube ho sentito varie campanelle ovvero varie recensioni opinioni sarebbe a dire dove dice praticamente che si trovano bene un ottimo produttino quindi top poi altro tipo di acquisto questa crema idratante sensibile sensibile per pelli sensibili appunto idrata e protegge idrata che non lo so ragazzi fino a che punto idrata poi per pelli sensibili scusate ma qua le luci vanno va bene mi tocca mi sa chiudere perché va bene non lo so per pelli sensibili boh aspettate un secondo perché non vorrei che scusate ma qua non era possibile continuare a fare il video perché c'erano troppe voci alti altine per i gusti stavano volando come pazzi quindi anche no grazie distroppavano tutto sommato il video allora idrata e protegge per pelli sensibili con vitamina b5 eccolo qua ragazzi mia vedete no non si vedrà mai la mozza si ecco così forse si vede si così si vede un po vabbè qua è si è riflesso comunque tanto appena posto la metto in utilizzo che ditte la apro non so se aprirla o meno non so se aprirla o meno normalmente la voglio aprire ma tanto ho anche questa qui no questa l'utilizzo un altro momento questa è della nivea e vabbè ma al momento voglio utilizzare questa qua mattina e sera vedete della si acqua di rose comunque una buona crema e mi piace altro c'è niente lo scontrino lo scusato il sacchetto è finito allora vi dico il totale perché non mi sembra di stare qua troppo troppo a dirvi che cosa il totale complessivo 27 euro e 49 centesimi comunque ragazze una spesona buona spero che sia utile alla mia pelle ma soprattutto al mio bel capello che non è brutto ma è da curare e da amare questo capello io sono per quelli che un po amano i capelli ricci che hanno quelli ricci però non lo disdegno anche i capelli ricci dai niente ragazzi questo è un breve video haul non so quanto sia durato però col casino che c'era di sottofondo non so se aggiustarlo o meno caso male lascio con un po di musichetta si vedrà vi farò sapere se tagliare il sottofondo o se addirittura come dire sì siamo capiti tutto il potere dell'editing se sottofondo lo lascio se metto la musichetta niente ragazze non ci si vede oggi pomeriggio o domani mattina con un blog o quello che sarà anticipatemi il like se l'avete visto già dall'inizio alla fine commentate iscrivetevi perché no attivate la campanella per non partire i prossimi video aggiornamento ciao